Continua la lotta agli illeciti ambientali. I militari della Guardia di Finanza di Lecce hanno completato quattro operazioni di controllo del territorio. Più nello specifico, i finanzieri della Compagnia di Gallipoli hanno rinvenuto nei dintorni di un'azienda di Galatina oltre mille pneumatici in pessime condizioni e in stato di abbandono. Inoltre, nel comune di Alezio è stato individuato e sequestrato penalmente un terreno di oltre 600 metri quadri adibito a discarica di rifiuti non autorizzata. I presunti responsabili sono stati segnalati all'autorità giudiziaria. Sempre secondo le stesse ipotesi di reato, le fiamme gialle della tenenza di Casarano hanno sottoposto a sequestro penale una discarica abusiva nei pressi di Ugento dell'estensione di 1550 metri quadri. Infine, la collaborazione tra il gruppo di Lecce e i finanzieri della sezione aerea di Bari ha portato all'individuazione di cumuli di rifiuti di vario genere in evidente stato di abbandono all'interno di un'area di ben 1756 metri quadri nelle vicinanze di San Donato di Lecce. La battaglia per la bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi rimane una costante priorità.